In questo video tratterò il sesto arcano maggiore dei tarocchi, l'innamorato. L'innamorato rappresenta a livello simbolico un qualcosa di molto interessante, perché rappresenta fondamentalmente una tentazione, una tentazione tra due belle fanciulle. Questo innamorato, come vedete, è, diciamo, tentato da due belle fanciulle, che sono una al vizio e una alla virtù. Cioè sono l'istituzione e la trasgressione, sono il verso e l'inverso. Sono il diavolo, tentatore e la divinità, diciamo se vogliamo. È quello che, da un certo punto di vista, ha vissuto Adamo, cioè tentato, tra l'istituzione, cioè il non mangiare, non cogliere il frutto del bene e del male, e invece la tentazione del diavolo, quella di cogliere il frutto del bene e del male. Dobbiamo tenere presente che verso e inverso, in questi casi, sono necessari entrambi. Cioè noi non possiamo essere attratti solo dall'istituzione se non c'è una trasgressione. Non possiamo conoscere il bene se non conosciamo il male. Come non possiamo conoscere il male se non abbiamo il bene come riferimento. Quindi entrambi sono importanti. Non esiste la tentazione del diavolo se non esistesse, non esisterebbe la tentazione del diavolo se non esistesse il timore di Dio. E viceversa, non esisterebbe il timore di Dio se non esistesse la tentazione del diavolo. Quindi l'innamorato deve fare questa scelta. E qualunque scelta faccia c'è un concetto di fondo dentro, fondamentale, in questa carta, che è l'aspetto positivo dell'innamorato, che è l'esercizio del libero arbitrio, la capacità di scegliere. Può fare la scelta sbagliata, ma vissuti in modo positivo, ha comunque esercitato il libero arbitrio della scelta. Invece nella fase involutiva dell'innamorato, quindi dipende un po' dalla persona, dall'imprinting, da come si percepisce la persona direttamente, per quello che i tarocchi vanno fatti con la persona direttamente davanti, non possono essere fatti a distanza, o perlomeno chi fa a distanza in realtà non percepisce nulla, perché deve crearsi un entanglement fondamentalmente. All'inverso è il dubbio, quindi la parte degenerativa per cui l'innamorato non sa scegliere, non fa una scelta, perché non esercita il libero arbitrio. E viene governato da questi impulsi, viene tirato da una parte e dall'altra, e non riuscirà a fare la sua scelta. E questo è il non esercizio del libero arbitrio, che è la più grande condanna, diciamo, alla quale gli uomini possono essere condannati, appunto, essere governati da impulsi che non conoscono e che non riescono a controllare. Nel lato positivo, invece, qualunque scelta l'innamorato farà, però eserciterà il libero arbitrio, e non sarà condizionato dal cupido lì sopra. Bene, per questo video è tutto, condividetelo con i vostri amici, seguitemi sul blog istituzionervip.com e naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao!